ciao famiglia spettacoli qui è spettro e bentornati di questa notizia del episodio qua tra voi su 5 nights at freddy's oggi ragazzi non siamo sulla ultimate customer perché ho deciso dato che la ultimate customer sono fatto tantissimi episodi ho deciso di riportare sul canale tutti i 5 nights at freddy's dall'1 al 6 e andremo a ricercare tutti quanti e andiamo praticamente a riscovare la storia cosa è successo cosa è successo a pop guy cosa è successo alle anime dei bambini praticamente andremo a rifare tutti quanti tutta quanta la storia completandola a 100% faremo seste notti custom night 20 20 tutti quanti allora questo è il club soliti di freddy's freddy's e farlo spettacolo ovviamente e andiamo a fare i miei game ma se entrava si sarà di trasferire spizza che femmini pizzeria luco su un luogo su work nice ship 12 am 6 am il mio inglese è veramente un buon video da quando è la freddy's ok eccoci qui in freddy's sempre la stessa raga grazie a farlo guardate non mi serve allora questa è la gratta allora mi ricordo che c'era una sott... già dom 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 e vabbè era a parte fox allora mi ricordo che c'era praticamente un nuovo babi cioè perchè si poteva evocare quando erano freddy tu dovevi tipo metterti che ne so qua questo cambiava delle volte non lo so se lo fa anche adesso andiamo a girare delle gambe le miei cariche di qualcosa no non cambia ok praticamente si questo qua a delle volte si distorgeva pure diventava direttamente col gen 3d ok adesso non lo so se succede guarda cadante la notte 1 quindi che non mi starebbe da sentire a dire non cambia raga aspettate e allora un po' e' un po' ma perchè fox i paradigmini non cambia raga però bellissimo quando vai ah muovi cambia e' un po' e' un po' vabbè mettiamoci qua Allora, ragazzi Cercherò di fare due notti a ogni episodio Nel modo da Da fare episodi compresi tra i 15 E i 20 minuti O anche Cioè, voglio fare episodi compresi tra i 10 E i 20 minuti Qua niente Un po' costa non si rompe E dai, rompiti 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 Comunque, ragazzi, poi andiamo a portare una volta fino al 100% Andiamo a portare anche una mod Che sarebbe quella Che praticamente Nello soft stage Non ci sono né pony, né chica, né freddy E neanche qui c'è Foxy Ma l'unico che c'è è Anna, ragazzi, perché dovete sapere Aspetta C'è che batte Regatta, let's me Fermi Perché smi Perché smi Perché smi Perché smi, rada 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 r ah ah, bonnie, si è mosso, bonnie de bonnie, io col 58% di parte, ciao bravo, per tornare nella domanda non pare che intanto non serve il cambiatore di camera così che rimane che magari sono giocato a uccire, però ragazzissimo, che belli vecchi tempi, lontano a 2014, ma ci sono passati 7 anni, vabbè, qua non c'è nessuno, non sono mosso, dov'è, acqua, comunque ragazzi, non vi confondete perché questa qua non è la porta dell'ufficio, perché come potete vedere, qui, questa porta qua è, mannaggia, questa porta qua, questa porta qua è la porta di questo spazio qua, perché, perché guardate qua, vedete questi televisori, questi televisori, guardate qui, vedete, stanno qui, quindi la porta del nostro, dov'è, dov'è, vedete, la porta del nostro ufficio, avete vado una volta, ok, vedete, vedete, vedete perché la porta del nostro ufficio, controllo solo veloce, dalla volta da apparte, la posta del nostro ufficio sta verso di qua, esatto praticamente sta dietro qua e la sento muovere essi siamo sempre cita ok ma bonnie sta ancora qua c'è cica che non so dove è andata in cucina spintolare ok raga non vorrei morirà l'accomanotte sinceramente si tira giù le pentole cita prendo la città la città sta ancora dentro e la città no sentito non è andata non è andata quelle forse che fa il box quando dovete venire è che sta morto non è andata oh chi si è mosso raga non trovo più bonnie raga non trovo più bonnie raga raga ho finito l'energia ok fortuna che qua raga fortuna raga l'energia praticamente quando arriva 0.900 c'è ancora un po' di c'è ancora un po' di c'è ancora un po' di carica per pochi secondi ok ragazzi notte 2 second night second night second night trovo i am e si vuole ok due notti abisodio ok perfetto ciao non mi interessa parola comunque raga anche se non compare quando si chiama basta che passate è già ora ok raga c'è stato di rispondere l'energia stavolta ok contratti da veloce vedrete tutto a posto ok e poi niente e poi tutto a posto poi le tue nuove dronici e poi e che è bus comunque ragazzi questo da te è limitato di interpassare quello credo sia ehm la stanza quella della safe room raga doveva ha morto il palco che era dentro spin bonnie l'energia si consuma si 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 voglio ancora qua no ha cambiato quest'azione ok adesso è qua controlla tina veloce è qua no dov'è è qua perché la controlla tina veloce c'è qua tra posto c'è qua c'è qua c'è qua c'è qua c'è qua questo è qua contrario non è ancora qua c'è qua c'è qua apposto tutto ok è che tutto ok c'è tutto a posto le carte che l'unico ricamore del mondo adesso questo 12 12 e buoni ciao a me si chiama si chiama ok ragazzi mi è andato apurata ok boni è qua circa qua adesso dobbiamo controllare questa 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 no no chica cosa è che mi cucina allora dobbiamo controllare questa camera questa questa e questa per il momento compriamo stiamo a prendere buoni no è andata a finire buoni ok allora questa 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 a questa camera questa camera questa camera questa camera questa camera e questa ok buoni ragazzo apposta si è mosso ok ok ragazzi uno è qua no già se ne è andata mentito poco degli animadronici ok boni è qua circa qua allora boni qua circa qua alla faccia tutta a posto no allora qua tutta a posto qua tutto ok 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 ragazzi che qua questi due tutto ok faccia ciao mi aspetta un doppio attacco a seconda non si è andata il video ok ma se si è andata a testo è andata chica dove c'ha sentita il video ok ok ma senza allora non si è andata a testo non si è andata a testo da Qua è tutta a posto, ragazzi, non partirà, dobbiamo controllare Ciga, questa è ancora qua, ragazzi, controlla la tira veloce di Ciga, no, si è mossa, ragazzi, Ciga è qua vicino, Bani è andata, Ciga qua, Bani dov'è, Bani qua, Bani qua, qua non c'è nessuno, Ciga è torna da qua, Bani qua, Ciga qua, ok, ragazzi, Ciga sta buono, questo è buono, abbiamo Ciga qua, guarda, questi due, ok, ragazzi, Ciga è torna da qua, Bani ancora qua, ok, ragazzi, Ah, raga, il Crying Child, c'erano i bambini, quelli che piangono, ragazzi, le anime, c'erano i fantasmi, che qua non c'è nessuno, ma anche la Ciga, Bani qua, Bani sta qua, ok, ragazzi, qua Ciga si è andata, ma non è che siamo tanto confidenti che a Bani viene andata, la dobbiamo aprire per forza, Ciga sta qua, allora, Fox e Fretti stanno per me, abbiamo Ciga qua e Bani qua, raga, raga, non posso sapere delle camere, c'è poca batteria, raga, ti prego le sei, ti prego le sei, le sei, le sei, ora mai più, ora mai più le sei, 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 ti prego, non mi dò vero vero non mi dò vero vero le sei io ero un micchio si 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 ok no 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 basta basta ritorno all'inizio gioco ok 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 perfetto ragazzi come continuano l'ho fatta la notte 2 sarà un bancher allora spero che il video ci sia piaciuto mi piacerebbe iscrivervi al canale e se volete vi consigli a fare la serie di tutti i frances fredd lasciate like e attivate il mio cammino a video per altri episodi io vi saluto e ci vediamo ad un prossimo episodio bella ciao 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 ciao